L'espansione è uscita in occasione della pandemia del 2020 per aiutare due importanti istituti mondiali di ricerca. Infatti tutti quanti i proventi della vendita di questa espansione sono andati appunto a questi due istituti. Questa variante cooperativa consiste nell'avere alla fine della partita più pazienti curati rispetto a quelli morti. All'inizio della partita puoi scegliere il livello di difficoltà dello scenario, diciamo così, perché c'è la plancia con il livello di contagio basso oppure alto. E l'indicazione se vuoi rappresentare un livello di auto isolamento scarso, medio o buono, che c'è in entrambe le tabelle. Questo determina la quantità di segnalini moltiplicata per il numero di giocatori in partita, la quantità di segnalini di questi qui che vengono messi a fianco ad ogni round, come vedi, e che devono poi essere distribuiti assolutamente a tutto quanto il tuo personale o ai tuoi pazienti. In pratica funziona così. È obbligatorio che ogni giocatore faccia almeno un'azione di ricoverare i pazienti e vengono distribuite queste tessere in base al round in cui siamo, vengono distribuite una per il giocatore, il più possibile in modo equo, e quel giocatore deve darle a, deve in pratica infettare un paziente oppure un dottore oppure del suo personale. I pazienti infetti vanno nel laboratorio relativo da cui arrivano come sempre, se lo dai invece a un dottore, un dottore può andare in qualunque abulatorio visto che non arriva da un dipartimento predeterminato. Sia i pazienti che i dottori infetti possono essere curati esclusivamente da dottori non infetti e se un dottore sano cura un paziente o un dottore infetto, in pratica la pedina dell'infezione passa al dottore sano e il paziente o il medico curati invece si comportano normalmente. Altra particolarità è che se curi un dottore ti dà tanti soldi tanto quanto un paziente. I pazienti curati vengono messi di qua, i dottori non vengono messi qua, rimangono nella clinica per lavorare. Altra azione in più da fare durante la fase di amministrazione, cioè c'è una quarta step dopo l'amministrazione, in cui necessariamente ogni giocatore deve prendere una tessera covid della riserva e piazzarla su un qualunque spazio di un pre-ricovero. Altra differenza, a parte questi numeri fra la versione semplice e difficile, è che in questo caso ne prendi due pre-giocatore. Quando finisci la partita devi avere più pazienti curati che pazienti morti. Grazie per aver guardato questo video, alla prossima!